Due squadre partite con la promessa e la premessa di essere le dominatrici indiscusse dei giruni H e D del campionato di Serie D. Tra Bari e Cerignola però, solo una è riuscita fino a questo momento a rispettare il cammino immaginato durante la stagione estiva. Con 12 punti su 4 gare giocate, 13 gol fatti ed uno subito, con conseguenti miglior attacco e miglior difesa del torneo, chi sta mantenendo le promesse è naturalmente il Bari. L'analisi sul cammino dei Biancorossi non può però prescindere da un presupposto. Una squadra con Di Cesare in difesa, Brienza a centrocampo, Simeri, Floriano e Negli in attacco, senza dimenticare Pozzebonne e tanti altri, non poteva che raggiungere simili risultati. Se a questo ci uniamo alla scarsa caratura della concorrenza, superata fin qui con almeno 3 gol di scarto, la famosa regola del 3, tanto dibattuta in questi giorni, otteniamo un campionato che pare già segnato. Difficile infatti immaginare un calo di tensione per una squadra chiamata a cancellare l'onta del falimento e da rappresentare la voglia di riscatto e risalita verso palcoscenici più consoni di una piazza che sta rispondendo alla grande ed è pronta a seguire passo dopo passo quella che deve essere una marcia trionfale verso il ritorno tra i pro. Tutt'altro che trionfale è stata fin qui la marcia del Cerignola, che le promesse estive davvero non le sta mantenendo. Partendo anche in questo caso da alcune premesse, ovvero una rusa di ottima caratura, ma non a livello di quella del Bari, dal livello superiore del girone H, guidato da una sorpresa come il Picerno e composto da squadre come Taranto, Bitonto, Tim Altamura, Gravina e anche la stessa Fidelissandria, si può comunque affermare che 5 punti in 4 gare sono davvero pochi. Ed in effetti non potrebbe essere altrimenti per una squadra con calciatori del calibro di Lattanzio, Esposito, Longo, Abruzzese, Allegrini, Marotta e Dulcis in fondo Nicola Loyodice. Proprio l'utilizzo con il contagocce del fantasista barese viene indicato come una delle cause dell'inizio con il freno a mano tirato di una squadra che però ha ampi margini di crescita e al netto di qualche episodio sfortunato come il gol annullato contro il Sorrento e i rigori falliti da Lattanzio con Bitonto e Taranto a tutte le carte in regola per mantenere le promesse. Grazie a tutti.